Perfetta, tu pensi che sia che sia migliorabile, mi metto un attimino a tutto schermo così intanto, tu pensi che questo record sia, cioè si possa fare qualcosa di meglio perché dalla rara ho visto che più o meno è quasi perfetto l'edit Quasi perfetto, secondo me le uniche cose che diciamo possono farlo fare un tempo migliore Ci siamo! Su serio io non so più dirlo ormai, è l'inizio del gran finale Migliore Ok, vai avanti Almeno non dico tanto ma un secondo e meno potrei farlo se io facessi bene i 90 gradi infiniti, cioè che quando fai Diciamo la terza parte del muro Lorenzo, c'è pure Lorenzo Non ti blocchi perché dipende da come lo fai Recuperi un po' Esatto, o continua a correre oppure magari si ferma un secondo E poi è perso, no è vero Fai delle creative, ecco Oh ma buongiorno eh Non far mai fermare il personaggio Registri? E qui teoricamente è il tempo massimo che uno può fare Cioè perché il personaggio è un'andatura standard Poi non so perché alla fine sei tu che ti sei allenato Da proposito di allenato Cioè quanto tempo è dedicato alla mappa Ma comunque si tratta sempre di un'acqua mondiale Molto tempo, molto tempo Ah ecco ti ho spessato Cioè magari lo facevo, cioè ti spiego L'ho fatto per un po' di tempo per sfizio perché mi piaceva Ma cosa stai guardando Facebook? Perché volevo fare un buon tempo appunto Dopodiché Cioè magari circa una settimana fa Qualche giorno fa Un altro ragazzo L'ha superato col tempo Ma cosa stai guardando Facebook? Continuare E rimane almeno un o due secondi di lui Possibile che io sento due voci E ho detto Vabbè a questo punto provo per il record E quindi allora sono stato lì in questi giorni Un po' alla mattina E niente E beh cavolo È un punteggio Cioè tu ci hai messo quindi due Eh buona raga Facciamo un creativo con un percogiochi O un qualcosa Per fare tutto il percorso Comunque beh so che sono uscite altre mappe 5 minuti Di queste settimane Magari Non so se ti vedremo anche lì Sarebbe bello vedere qualche altro record mondiale Italiano Perché alla fine c'è stato questo video E quello Non è tanto Ma Daniel cosa stai facendo? Ti sto guardando in live Ma Prima il record l'avevano altre persone Non avevo mai fatto video sulla cosa Perché non mi interessavo Però l'idea di portare un italiano Tra l'altro Cioè conosco È bella sta cosa Quindi io vi ricordo Vi lascio il suo link qua sotto Cioè vi c'è che anche lui comunque ha un canale YouTube Ale Le fai una di corso? Di corsa? E lo E lo ricorda c'è? Te fai una di corso? Di corsa Eh? Lori allora Che cosa volevi dirmi? Non si perde un video così Cioè non scherziamo No vabbè Se si perde un video così Allora non è neanche più senso farli contenuti Perché sta roba qui è una figata Certo si tratta di un gioco Quello che volete Però l'obiettivo era quello di fare il tempo più basso Attualmente in tutto il mondo È il tempo più basso da lui Beh magari domani Un pazzo fa mezzo secondo Non lo puoi calcolare Fa un secondo di meno Ok e lì Se si adatterà E si proverà a fare di meno Quindi sostanzialmente Questo era quanto Ho fatto Ho fatto due domande Allora Giusto per Per capire un po' Come funziona l'allenamento Dario entriamo nel tuo A proposito L'ultima domanda Ti sei ispirato Cioè hai guardato Altri video Ma neanche nel mio Perché mi fa veramente schifo Non c'è niente sul mio Devo entrare Questo è di Senex Mi ispira guarda Per un po' che Aspetta C'è una mappa troppo bella Vado a controllare le mappe io Vado a controllare delle mappe Che figata è questo Ma che Ma che cosa Ma che cosa è questa roba È un parkour È vero Che cos'è C'è questa Non toccherebbe la partita Lo guardo Perché Non ci sentiamo poi Perché Non ci sentiamo Ah no Questa mappa Usciamo Brutta Un po' che c'è La sfida è lanciata Tutto il mondo Nel caso Non ci sentiamo La sfida è lanciata Vieni Lorenzo Andiamo a vedere Delle mappe Ok Per chi Puoi usare Vado in questa Io Lorenzo Si tratta di Pochissimo Di differenza Quale Ale Quattro Usciamo Questa qua non è bella Ale Quale sei? Mi sento paura Sono ritornato Vieni qua Vieni qua Questa Questa è un spiro Sto cercando una mappa troppo bella Cos'è? What? Ragazzi andiamo ad analizzare Che è stato lo scorso record del mondo Questa è una house Torna al centro Torna al centro Aspetta Tre spettatori aiutare Cos'è la mappa di Han? Quella è mia no Quella è mia no Che faccio Dove nemmeno perderelo questa mappa Eh? Quando l'ha creata? Questa è una cosa Questa è una cosa Questa è una cosa Questa è una cosa Io dai io Questa è una cosa Certo io Certo io Nessuno ha scritto niente Dopo i 90 gradi infiniti Che mi ha papato sto fratello Non lo so C'è solo che ho 43 di vita C'è solo che ho 43 di vita E potrebbe essere un po' Ehm Oh amico Ale Sì Andiamo in questo Questa qua Questa qua Questa qua Questa qua Questa qua Questa qua No 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 vieni 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 ti faccio vedere l'isola di Darell Darell è la tua isola è questa? è qui che è la differenza stanzialmente siamo entrati nella tua io torno perchè ci sono solo costruzioni? usciamo Lorenzo ci siamo stati in tutte quella di? Kando dov'è Kando? mi sono buggato si è morto mi sono rimasto tanto che quella di Darell no sono entrato nel Kando che sto guardando Darell deve fare una cosa e finisce si deve fare questa e se ne è dopo facciamo un po' i giochi vediamo è un bel piano è rifatta è un bel piano 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 si è scritto ma come? 5 e 20 la live ok no shield I hit one guy cosa facciamo? oh my god moving towards them got it where is the other? down 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 they have no mats and they push us like this I don't know why plane in front of me oh man I got one team here pushing me I'm gonna heal there's a big pot back in the bottom I'm healing give me one second plane coming watch out come in fuck it I'm not gonna heal dead 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 good job brother I didn't use my 50 pot people shooting at us from there did you get the big pot in the barn? yes I do ok let's go back I know they're up there we gotta go bro let's get in the plane I'm gonna put them all week coming coming give me one second bro no you're gonna break it no you're gonna break it like this you're gonna break it oh my god we got people down here in the bridge in the bridge so watch out if you go left oh there are people there where you wanna go I'm going in the center of everything okay let's set up let's get this house let's get this house let's get this house yeah but bring the plane don't destroy it destroyed they got damage I got hit by someone they're gonna go they're here they're here they're east west 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 dynamites on them hit 70 he's really wide rig he's wide inside that box yes let's go let's push the other guy I'm just holding pressuring I got it twice twice good bro how's your math now? bro I'm lagging wait a second I don't know what's going on oh I see people ciao Lorenzo se mi senti ciao c'è un terzetto? un porco giochi un terzetto no no un terzetto no dopo un terzetto? va bene facciamo un terzetto vediamo com'è due sfide lui 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 con suo bello zainwood zainwood perché quando parlo il personaggio apri la bocca pure lui vero vero che apri la bocca come si fa sono solo si vede doppia la live come si fa come si fa anche dell'espressione chiede c'è un impostazione cosa si vede è vero la live si vedeva doppio prima ora normale sto calmo e non ti agitare comunque solo io e un altro che stiamo guardando in live no ora va bene ora si uno spettatore attuale aspetta vuoi che giro vuoi che condividono live un attimo ci impiega va bene condivido al gruppo no 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 perché perché no danilo ma ti vergogni ma come io perché se magari lavandis il gruppo giulia e che viene l'anno per colare tutto il tempo no non gli rispondo lori a chi l'hai mandato invialo al gruppo a tutti no allora l'ho mandato danilo elena micchi e mio cugino invialo pure a chi viene giulia soprattutto viene avando due bene siamo pronti a perdere a tercetto quindi tranquilli c'è problema che bello non si vede doppio adesso non si vede doppio però si vede schiacciata ho chiuso l'accoglio 123 ping amo noi e non ho per fortuna finchiamo tutti povero che è normale finchiamo anche a me perché pavimento con pavimento piramide muro perché mi vengo a schiacciare il testo piramide dove andiamo in un parco picco parco un dotto va bene bene grazie autista ti ringrazio da qua grazie autista ti ringrazio da qua come ti fanno a donare dal confine live come ti fanno a donare io vorrei aggiornarti ma chi lo saprà è vero 0 centenzi non si può andare a 0 centenzi ti do massimo un euro si può dare a 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 basso volumi kevin dare il ma si è sentito la mia corve conversazione in live no? si se no la sento la no la sento la no quale conversazione? una k, una kb e magari modifica mi stasera la scena eeeh uno si hello guys hello guys io non ho scudo hai mai carenze di shield hai mai carenze di shield se venite se venite da me ho un succo succoso dai cosa qua il succo succoso silvino 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 lorenzo ti porto su con su cosa io sei vai tranquilli tranquilli sono sopra di te non ti bere il ma lo silvino piccolo no no ce lo è su cosa cosa eccolo eccolo è andato giù diretto è qua tanto che aspetto il pompa scudo da 25 neanche io c'è qua un doppio pistola un doppio pistola un doppio pistola con un'altra un doppio pistola con un'altra pure io mi ha lato chiedere di sterzo a me si no non c'è non c'è un pompa uno mitraglietto una digola e un dare guarda che c'è a modificare le scale ora di qua di qua di qua dove andiamo? andiamo in 6 no aspetta aspetta dare il fermo tra avella cosa la può fare?" santo oh spartiamo tutta la cucina ha e la vendita quiamo come oh man non ci credo l'ho presentato baby baby oo baby baby ooo caramba caramba 후 va cerchi la sí l tiế cavolo ma io sono un messo benino per quel colpo un po il posto da dicono sì io sono più scusa baby sto tremando tremando un sacco anch'io anche tu tremavi ecco dare il secolo sono il cubo no sono le onde sismiche ma è a lei che scorreggia un pompa del nonno dare il tipo se della deagle pompa nuovo what vieni da me venite da me sì non posso arrivare ho lanciato granate si pure un aeree troppo c'è da me vengo io vengo io ho un p 90 c'è pure un cespuglino c'è pure un cespuglio per chi vuole c'è che la mitraglietta grigia in testa tra le 44 invece il più 90 d'oro 42 no che scemi ragazzi che si prende la puzza venti no a me serve oh c'è lo capisco scappiamo scappiamo dove coordinate sulla montagna dietro come dietro ma dove sono lì non li vedi tutto scudo gli ho tolto per un hacker mi avrà confuso un tizio è morto in pratica ora hai colpito di cerchio me ne sei occhio che uno è sceso ma state attenti ragazzi quanto vi ho salvato da uno dieci non lo so però grazie comunque andiamo mai facci i cavoli nostri che cavolo ma questo è dove si fa un stato dammi il pulpo più dammi il pulpo più no do dare il colpicecco ma qua non c'era un altro colpi colpi razzi c'è uno skin che è morto in pratica avrà avrà sette di vita me lo fai fare a me questo quello lì quello lì è quello che stavo cercando e non da poco però eh è uno skin vero non l'avevo indebolito io ho sicurato questo qua lasciamelo un attimo lasciatemelo lasciatemelo aspetta ma non uccidete io uff ragazzi il primo ma è infatti alessi è danno tutto 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 avete colpi di coso come si chiama colpi pompa no tu mi devi dare colpi assalto ma ma scusate no io me lo lasci è l'unica roba colpi di assalto è l'unica roba che su usare bravi eh dai ti posso lasciare la k se vuoi ma ci sono i colpi qua mi hai presi tu mi hai presi tu tolori prendi grazie grazie no grazie pompa colpi pompa grazie me ne dai un po' a dare ce n'ho pochissime beh io c'ho il glider ho due ricaricatori basta grazie colpi razzi ho un fallo e una jump dare la jump usala 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 la jump prendila ma si si lo usiamo tanto erano due dimmi stop sto arrivando dimmi stop perca miseria vabbè io c'ho il glider al massimo e butto un po' prima stop adesso dai sbrigati eh dobbiamo ancora imparare a usare un po' in questo gioco da finiamo con la fune via tutti e tre no oh ho visto un po' in questo gioco da finire non fare mazzo dai 6 si 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 sto arrivando ci sto arrivando sta arrivando sto arrivando ahia mi hanno colpito ho ditato numero un eccoli eccoli davanti a noi tre dietro non sono davanti ci vengono evitato il tanto con quel punto da terra dare caccia lori dove il caccio intanto vai da te senti si si ma ti sto coprendo scrimmish scrimmish Sì, 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 sì. colpi raggi ci tieni così ci gente qua ha letto scuole a loro è in stato occhio non c'ho mazio in pratica anche io però uno col traccio saluto tutta terra no aiata si vengono a pushare però occhio no cavolo si vengono a pushare e mi finiscono vabbè pg è passare uno è un italiano abbiamo fatto vabbè due chili mi sono portato a casa vabbè due chili mi sono portato a casa ci siamo reti terzi no in quattro sono no vabbè bella partita vabbè bella giocata facciamo un altro terzetto eppure io devo fare missioni vai vabbè vai fatelo facciamo vedere il nostro lato negativo dai io devo fare solo l'ora in giocata ultima no dopo 25 no no poi ci facciamo una foto dopo questo c'è 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 c' ragazzi ma io non sono entrato ragazzi guardatemi io non sono entrato dare dare il non so vabbè gg di giro senza di quella partita che le matti terzi guardati sono anche quando la line lorenzo 1 per adesso io ma le scrivite sulle la canzone che usa di voto l'obusivo ma io il telefono scarico come che non c'è soltare tu le vada corso io non segnate vabbè segna lo segnate il primo che segna e dare l'obbio io non vado a corso male ciao se sei dall'altra parte del mondo vabbè non viene tanta gente viene con me una persona vabbè io mi vado a bordo c'è solo un po ma il minuto il minuto sta crescendo perché hai dato quella parola perché hai dato quell'aggettivo sta crescendo vabbè un pompa nuovo nella macchinetta minuti di crescere un sacco sempre piccolo si con queste cose in pubblico un po di autostimolori se vuoi io ho detto niente se qualcuna casa sto aprendo vediamo se si può consolare la nostra squadra è già fatto una kill si vabbè però io ho io sto tanto con un pompa verde dell'onno manco dici uno scato è ottimo un strumento un pompa un pompa ma anche il glider mi mette vabbè mi prendo un pompa non è la macchina machine guarda un pompa nuovo lì per terra no uno scar silenziato si solo quello mi serve si scar silenziato d'oro grazie gioco non lo troverai mai più da qui più 90 no vabbè ci ne ho bisogno io sono triste io però ho un'idea nel bello di cosa portare che ien no quanto sei grosso tu eh 25 di bianco l'ho fatto cosa io non vado io si pure io non vado non è l'ultimo ci ci incontriamo alle superiori all'esame però dare senza farlo apposta sono caduto sopra un airdrop che aveva dentro un cecchino ma allo fine anno non mi piace a me sto scherzando la godi fai vedere quanto c'è che non lo è sono un pagliaccio solo guarda la faccia di cayenne alcune volte mi credo figo alcune volte no alcune volte mi credo subito ma io mi credo che sono in un anime quando mi guardo lo specchio dico ma che è questo schifo dai ragazzi un po' di autostima viva la vita si viva qual'è qual'è ottimismo non è non si chiama autostima cos'è autostima tipo sono bravissimo io su fortnite dai ragazzi che ce la facciamo beh io ho tantissima autostima io l'ho perché no anch'io ce l'ho io ce l'ho non c'è mai sentito dove sono ragazzi a parte alcune volte su c'è ancora il bug del deltaplano che vado lento solo a te eh preferisco scendere più giù che andare lento quanti riportati li sto questo peggolo di un sacco ma se c'è chiuso la prima serie no ah vermali che il bug mi sono sbagato voglio farmi voglio fare tanti kill come si l'avevo chiuso di un colore di vivo tipo quando fai la panna iphone pappi pappi a epope no eh 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 collettivo quando fa le cose epiche no quando fa quella che fa cos'è che c'è ho visto bene Italia cosa? what? macchinetta leggendaria? vediamo cosa mi prendo io io non ho mazie non prendo niente io non ho visto io non c'è un cazzo io non c'è un cazzo oh non mi succare questo come sarà utile non ho neanche in terra che sono un gioco la sicura fine mia con la colline con il mio non ho visto che è hacker anche se vuoi dire che c'è una scena con la scuola guarda mi questa la resta questa la questa la guarda grazie di munizioni c'è ne tante a me stiamo dice che quattro cos'era quella roba attenzione no 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 non posso prendere no non ci credo attenzione ma che prosuono ma che l'altro di che sei il forello ma gli ho pregato una kill ho visto la che saltava e io per chi l'ha da caso io ho zero e ridi ma questi ragazzi ho visto a tutti vabbè non c'ho niente io ho già fatto la mia missione soltanto una kill kill pure io vorrei una kill ecco l'ho trovata la mia kill anche l'ho appena trovata io è appena uscita già oh la mia prima kill ti ho aiutato eh ma che ma non mi stas parando lol io ho cinque kill non mi stas paramento attenzione anche che poi che scaracoles farà rara ma dai mi hanno chiuso gli stessi non ho fatto giunto c'è uno neanche atterrato di fronte quante chi l'avete dietro io sai allora io sto o c'è un nostro in bravo ma questo barbone questo è un beccato quanti c'è uno che spara con i denta plano beh compagni per coletti ho ucciso il nostro libro mi sono suicidato danno da caduta vabbè non ci credo tutti i fregoli chi li debolisco tutti me le pregano ma sono gli altri c'è lo skin bravo sto per uccidere io? non mi accompagna o me lo frega oh è nuova quest'arma ragazzi me ne sono fatte due con sette di vita troppo forte ah ma hai po' ben hai po' ben siete contenti per agita o no? ragazzi non ci si tra con sette di vita oh vabbè infatti sono morti ma c'è una sola un protégio ah 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 come perché è un bot questo? starle di briscia o no? cos'è un bot? ha preso con tutti colpi? chissà perché? ma io mi sveglio sempre alla fine a fare le kill ma io non ho fatto ordine io ho fatto ordine quale cosa che la verza questo quello di primi lo ski sete che io c'ho il doppio delle alle cose perché allora è un attimo per me solo un troppo alle agli amici ma come l'allocido aleman a partire l'hacca non lo sai cosa che mi fa ridere quando vede il nome c'è sempre scritto il rosso perché nella non vedano un bel certo il nostro in come dare le zone eretto sono distrutto 8 che il matiziano ragazzi 15 più schifo io 25 io 100 kill il gioco metti che c'è 100 kill anch'io adesso mi faccio una bella parte domani che bello si vengi ma si vengi vita e sblocchetto l'ins no quanto ti manca ragazza fare un parco io voglio stare con ale c'è un amico l'invito no no do io a darlo però a lei è uno che bestemma no fuori non riuscita a sopportarlo io sì io non riesco ma litigo io con quelli così eh no ma è simpaticissimo se vuoi vedere la mia vecchia live è stra simpatica è quello che si è messo a urlare si è tipo gabriele versione 2 no io no squadra 1 squadra 2 regionale sì 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 vediamo a me vediamo ecco cosa mi esce se così mi sono uno schifo no a me questo non voglio questa il mondo come skin vive che un sacco sempre questo aspetta fai c'è una schiena lori ogni partita quando la schiena io sempre questo ciò no no fidati ma io faccio il ranger dell'amore ma con il mio contatto ai punti in pregato a fai buon anno per me in reale metti aspetta così mi fai rosicare in arrabbi di più e spacco tutti quale maschini ma nero ci stanno ogni parco lo metto dare ai 20 20 spettatori non è vero ma se viene da quale ma io sto da far girare un po no ma c'è jo mettendo in buco alessandro ciao jonathan c'è jo ragazzi usciamo e jonathan io riesco e jonathan no non è giù farci o sono qui ciao io guardo da che carriaccia non bestegnare va bene ma chi è lui ma non è Jonathan che bugiardo sei nella live scodro 1 scodro 1 scodro 2 oh fra guarda che sta imparando a giocare con modi da schiera si sono in creativa tipo da un botto di tempo da fare sui 90 gradi capito oh mi senti party come se bugge a fare lori è morto c'ho uno spettatore io scodro 1 squadra 2 ma oggi c'è il torneo a coppia parzi ma ci lasci dare non so perché io guarda siamo fissati con quei torneo ho un ricordo si ma era buono 8 punti eh 8 punti in 5 partite non so scodro 1 scodro 1 cosa è che vuole vuoi vuoi prendere la pte già quanto è bello marshmallow 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 Paradise 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 Capito? Guarda quello che ho detto Certo Certo Sì Ma Nibas non lo usi? E' questo qua Nibas ho cambiato nome Lorenzo sul tapp conto con tv box hai? Non te lo dico Quanti? Non te lo dico Eh? Io adesso ne ho 1800 No 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 Sto aspettando il wrestler Sto aspettando il wrestler Che è un botto Quello che usano tutti i maestri Ah Come si fa a regalare skin? Scusate Eh cosa? Come si fa a regalare skin? Si può Si che si può Si può Ti do il mio caos Sì Ah vabbè Io ragazzi ho la mia carta di credito Quindi posso Non so 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 Facciamo due Versus due dai No È l'attima del giorno Fatemi un po' riscaldare No? Sono con moce tastiera Sai che devo schiacciare Sì però non riscaldarsi su di me Si ho capito prima Guarda che io ho Io ho sempre giocato con joystick Adesso sono con moce tastiera Ah io che sto giocando con joystick Sto sanno car Questi non ho sapere chi sono Vedete tutte le skin Si con Con joystick sono forte Se volete gioco con joystick No 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 Sbrizziamo Usa il joystick No rii Vabbè Vabbè Però devo imparare a giocare con moce tastiera Dai Vai con me Vai con me Stai calmo Daryl Un attimo Sbrigati Raga la vedo dura Cioè Faccio un paio Devo provare a fare un paio di kill Con moce tastiera Anche se mi sembra forte Ma sai che sei un migliore mio amico? Si Si chiamato amato guerra Si chiamato amato guerra Si chiamato amato guerra Lo conosci? No Si chiamato Si chiamato Si chiamato Digo Di foccio si eh Non è uno scherzo Epico 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 signori Ma tu quanti anni hai scusa? 13 Un 2015 Mi sa che fosse molto grande Vero La sua cosa ci sembra uno da tipo gangster No no Io pensavo che fosse più grande perchè la carta di credito No Cioè La madonna Esiste la carta di San Antonio Junior Se non lo so Semplicemente mio padre lavora in banca Oh Da Quelli No no Parti Se non andava può costruire Non ci credo No guarda io non capisco Quelli che giovanendo molto a tastiera Quando si trasforma da consiglio Non riescono a giocare Guarda vieni qua Vieni qua Guarda Alessandro Ti credo Ti credo è difficile Sono squadra 2 C'è in 90 che la devi so fare? Un scherzo E non è vero No scala pavimento muro no ti pare Ma tu con cosa li fai i pavimenti? Io con X non sto scomodo No io con C Ah ok Ma con C è libero praticamente eh Si C è libero Di default è libero Sì Mi ricordo con la Non mi chiedate raga Ho detto Ho detto Tanto sono nella tua spagna No fermo ma sta Non fammi li prendi Ah si adesso Non ti ricordi da Ti ricordi Panino? È guerra Si ma chi è? È forte vero Ah è guerra Lo conosco io guerra Lo conosco io guerra Lo conosco io Lo conosco io Lo conosco io No 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 Come va a conoscermi? Come va a conoscermi? Ha giocato con Ha giocato con in una parco Ah si Ah si Mi ricordo Circa due o tre settimane fa Credo Si e se E se Sono crashato Eh Siamo rimessi in due Non ti ricordi? Io guardo Io si Io si ricordo Mi gioco contato di quella gente Però che non hai idea C'è un cyber Tra il progetto Tra il progetto Io di canta gente giochi tra youtube Provinino Ma dove sei tu? Sto arrivando Sto prendendo il lama Vincino a me Alle 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 Tieni vieni Boh Gioca di piano con me Sono il mio di progetto Non vale sparare adesso È cinquanta eh Mi sto spaccando l'aereo diverso Perché? Non giocare l'aereo diverso Non giocare l'aereo diverso Si lo so madonna stai calmo Stavo scherzando Dari più di là Ma che mi stavo cercando? Guarda che trovo E io Ho uno di vita Io No Tieni bene ci sto scendo Ma Ho fatto prima di rigenerare La regola che provato Oh C'è tanto gradi Già non posso più cercare il lama Adesso No ma siamo arrivati a massima altezza No Trastardo da reddita ma starmi No No Ragazzi cominciò con joystick Gioca con joystick Fai piano guarda ti chiedi Fai piano soprattutto con l'alloggetto Si guarda che si è scarso io Si guarda che si è scarso io Ehhh Guarda 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 Con me puoi fare forte Tu si tranquilla Ale ti spacca un dito Mi voglio allenare Ti uccide Ti uccide Ti uccide malissimo Voglio vedere Voglio vedere Guarda 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 Io voglio giocare con guerra Ma chi è coli chi è L'alloggetto Allora Rangel dell'amore Rangel dell'amore E' l'alloggetto All'anima del giorno Mi devi riscaldare le mani Chi sono andata in una casa Cavaliere nero E' di oggi che cazzo di caldo pace a Milano Da nel cino Da nel cale nero io Ti dici Non ha freddo Poi oggi sono usciti e maglietta di pomeriggio Se ma tutto se faccio Io sono uscito Mi faccia freddissimo Da lei c'è pure un lancerazze E No Non vuoi Frate 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 Sono i 48 O 2 hit Centrale O 0 hit Mi sono entrate Poco che ti sta pushando ale E' la fai Il compotato Perché Visi Perché non posso Non ti invito Non vorrei dire E Io vado a fare lori Ti faccio di blind Ti faccio solo di No scopi faccio No Uuuu Ehehehe Ma anche bella hit Stai giocando con Stai giocando con mouse e tastiera? O con joystick No Ti ho fatto un PX Copro Un mitico Mi è rimasto tanto di vita Ma che non è stata lì Da lui Io questo pompa tattico è davvero Oppi cazzo Ragazzi ma Dopo 19 E' una bestia Cosa dici che mi spaga con un dito? PUM 35 Ma che cazzo vuol dire? 35 Aleconda che lui è al tattico eh E scusa Ho trovato da parti Ho fatto cadere Scusa Vabbè Non fa niente Ma forca Mamma mia Lo li sto facendo buttare lo possibile Perché devo cadere proprio adesso? Che hai fatto 2 KS E gli hai fatto 35 19 No gli sono entrate 3 hit 19 19 E 30 Hai qualcuno sopra? Un po' bianco 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 pure lui Bianco pure lui Io ho finito in massa Quindi Eh vabbè Mamma mia Qualcuno ha un Po' un po' del nonno da darmi Raga Fa pena sta cosa eh No mi sono curato Jump Rai Fa pena raga Vedete un po' del nonno Non vale rigenerarsi Non vale vabbè curarsi dai forse sì forse no Curarsi sì è ovvio Sì perché ti ho fatto io E allora hai deciso che ci puoi curare Mi sento ciò da te di vita e mi hai lasciato Mi hai lasciato Non so Soltanto che Te lo ripeto Ti ho stato 19 19 e 30 con il tattico No No Il tattico Toglie la vita Toglie vita a caso Sì Decide lui quanto toglie No Ma l'account è tu vero Chi è mio? No In vera no Il mio? Ah sì 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 No no L'account di Xbox no Non è mio Però il gioco in pratica è mio Ti aspetta Ti ho un po' rotto sì o no? Ah mi mancava sto cacchio rò La di pompa Ehi Vai ti ha rotto un po' Un po' Mi ha spaccato Ah ci credo voglio quando te le di vita 30 hs sì così mi piacciono via Cazzo Oh ma è tipo un ranger Un ranger blu Eccolo qui qui dove giocare piano No Trovano a trovare c'è tipo Mamma mia Stati insieme se parti va a dare Te cosa? Te pargival Te pargival Io sono nello stesso team Te Te è guerra Stiamo insieme Sì sì pargival Siamo gay Non in quel senso No pargival tutti vivi Siamo nello stesso team Eh sì lo so Io non ci dovremmo incontrare Sì sì lo vedo io Dovremmo incontrare parzi Ci incontriamo non so dove Decidi Sto facendo un po' Mammamia Mamma mia Le mie amiche mi mandano le foto in top Cioè Eh Vogliono rimorcare con la persona più bella che non ho mai conosciuto Ovvero un'Iba Zyper Eh 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 Sissur Ma che anno sei? Tu Tu No come ti chiami? Era un 2006 che ho fatto 2000 No è 2005 Ah 2006 Sì scusa Ho fatto la primina Sì Ma che sapevo Bebe Bebe Penso peggio che la 2005 L'arrivo non ti arrabbi Ti conosce Tu parti sei? Tu parti sei? Oddio 2005 Tu c'è la voce bella Strongest Oh madonna No Ma le trappole valgono Io le uso Don't touch me No di topo ho di topo per terra ero già giù Però non ho preso lediii No no di perché non l'hai costruito Eh no non mi fondono Aspetta Devo sistemare una cosa un attimo Ma io ho bisogno di un cerchino Che sia decente Non so scherzo Non valgono le trappole Solo sono in un lato Non vale a mettere tutto Ma io non so Solo una Sono buono Sì ho mangiato Ero fermo Ero fermo che scrivevo messaggi Dare il Guerra è simile al capo del mio team Madonna però poi ero perfetto Andando perpendicolarmente in giù eh Nooo Nooo Faccio parte di un altro team E' simile al mio capo Tu fai parte di un team Da quando? Sì Oggi 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 si chiama Nooo Nooo Provano a scopare Non so come si Dove ero? Dove ero? Dare lo conosci? Mattia Autist Mattia Lo conosci? Sì Autisma? E' il mio leader Autist Daryl Senza il minacistita ti ucciso Senza il minacistita Ti ho tolta ma tolgo anch'io ah sono un nabo qua ho misato un colpo che anche te guerra ho usato un colpo che ah no ti ho preso senza aver assistito no ti ho preso senza aver assistito sei difficile dare sei difficile che c'entri ah è vero non ne sono scordate vabbè sono contento oddio ma architetto è quello dove puoi aiutare le muretze oh mio dio pure guerra oh mio dio oh mio dio pure guerra ha usato la mia assistita ahia la usa pure guerra la mia assistita sei morto auto di vita questo auto di vita mi ha attraversato il pavimento quanta vita sai poco uff dare non userò mai più la mia assistita ho deciso ho deciso wow eh devo vedere se l'ha tolta aspetta fai vedere perché va da 50 fps madonna quanto l'album ho tolta e mi ha assistito oh mi sparano ma è che si mirato sono non uno si mirato no ha uscito test si dpc te vabbè 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 ho detto hai visto cazzo guarda guarda vabbè 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 fermo vabbè vabbè io l'ultima kee ok vabbè dove devono andare lori di che si sono giochi in guerra con due mancio al passari per otti e per otti e non c'è neanche l'ombrillo della vittoria però sull'altra casa su 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 quello vero si è di farci prendere l'aigrante subito ma come no no senza erano i ground non avevo maschi però l'ho tolta aiutare senza mi assistito e ma c'è tanta vita come la toglia qua devo fare 1v1 allora no e pensavo ci avesse un po' tanta vita così la toglievo lo picconavano e tolta tutta la vita con piccone ma donna non mi servono tutti le tigre ma è nato sin andata ma qua da me ah no sono andato ma è qua lori va bene ci stanno lasciando una royal rambol cazzo no non però non vale non vale ok va bene vale se non sapere due volte nooo l'ho intrappolato per un botto però poi finiti mazzo raga sto laggando un botto anche io sto laggando ho pingato tipo mille una roba simile non mi ha caricato l'arma ma le tts non ce li ho io io vado a vincere pietro vieni qua giù vieni qua giù troppo mi mazzo nooo che bellezza di fps non ha il gran bordello nooo 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 natura vero bello mamma mia renzi ci sei è andato l'oreno ora lì lorenzo adesso vado 200 al 100 mi piace se pp si sente pesita 20 e tanto lo fermo a pochissimo c'è la di comporto più alti sono meglio perché non ce li ho io perché hanno attivato il counter sennò c'è credo aveva lorenzo bravo lori non capisco dove lori no mamma mia vabbè mi piace un sacco lo scopo quale scarpe scusate se volte sto fermo che mi sta subito con la funzione priorità son priorità ma dai se non gli sparo ma perché non c'è tipo lì dato non scopo di ignoranza proprio perché ma dov'è l'altro debolta poli o 12 di vita mamma mia ciao ciao la mia squadra io devo fare 1v1 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 non possiamo fare terzetto a sto punto raga facciamo stacchi la facciamo terzetto che voglio dopo parte parte se the boss se ne va via facciamo torneo tanto adesso sto giocando così di l'ora me ne vado verso verso le sette io ho perso no non lo avevo visto la risa mi è stata son bravo ma come altro che automira fitta la mia se ne troppo schilata io senza automira sono schilano no 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 mi mira da solo si può sapere quanto sta camperando io perché sto scrivendo alle t fa filo ala qua un guerra seguimi siete qua le squadre insieme si attenzione di edifici fatto 1v1 1 1 1 1 tutti contro tutti vabbè vabbè dai facciamo tutti contro tutti facciamo stacchi il e poi io vado dai io qui sto parco giochi dai sta kill e giutiamo 3x7 chi altro giorno ha fatto due vs trio vs serzetta con un mimico 12 kg di squad Siamo tutti dei pro Lui 7 kg Io 5 Di ninja No passi ma tu devi vedere il mio video sul canale Si chiama Video Si c'è uno C'è un video sul mio canale Si chiama Vilele Io quitto Adesso mi vado a guardare il video di guerra No perchè l'abbiamo fatto No la è di capo Oh madonna Cosa l'ho messo di nuovo? Non mi metto Far up per l'ustrato Aspetta devo guardare il video di guerra Di BuzzFyper Di BuzzFyper 24 video No video Sus 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 Ma io non vedo niente Tipo vado su video Ci sono solo live Darei Quanti sono in live? Non lo so Uno Basta che schifo E Lorenzo Faccio prima A chiudere l'alarma Così io non l'ago più So Aspetto